Io non credo che ci sia bisogno di commentare questo oggi, cioè quello che state vedendo basta e avanza Grazie, grazie per gli applausi Steph Lo so che questo è il campo di battaglia più bello e più figo che tu abbia mai visto Lo so, l'ho creato io, è fantastico Ma io non stavo commentando, ma io stavo dicendo che è una figata pazzesca che abbiamo dei cloni che devono combattere tra di loro in un campo di battaglia In un campo di battaglia bellissimo Ma carino Cioè ci sono anche i nostri nomi più bello di così Steph Carino Ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono Steph e che se ci chiama Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui io e Steph ci sfideremo fino all'ultimo sangue Penso che questa, Steph, sia la battaglia più epica che noi abbiamo mai fatto Penso proprio di sì, perché, allora, Steph vs Feren l'abbiamo visto diverse volte Ma 100.000 Steph vs 100.000 Feren Ma non so proprio 100.000, non esagerare, cioè, però è un bel esercito Devo andare a contarli per dirti quanti sono Ma si vede a occhio, Steph, si vede 50 Steph vs 50 Feren? Più o meno Sono un po' di più, secondo me, sono un po' di più Comunque, sì, quest'oggi dobbiamo far affrontare i nostri due eserciti Come potete notare, però, oltre che avere i nostri cloni strabelli e fighissimi Abbiamo anche due bei giganti che sono, diciamo, il plus I nostri boss speciali per combattere questa guerra Il mio si chiama Stefanotto The Boss Stefanotto mi piace Stefanotto è una cosa che deriva da Lion Mi preneva in giro per il nome che avevo con un personaggio su un MMORPG E quindi mi sono tenuto In ogni caso, invece, Fere, si chiama ovviamente Fere The Queen È noto che si è messa anche... Ma è vero, non è una corona quella, Steph Fere Ma poi scusa, che Queen sarei se non avessi la corona? Infatti non sei la Queen di niente e di nessuno, Fere Sono la Queen del mondo, lo sa chiunque, Steph Quindi non puoi dire queste rese Guarda che tutti si arrabbiano E poi ti insultano nei commenti Eh, non sia mai Comunque, Steph, non ti domandi dove sono? No, Fere, dove sei finita? In mezzo all'esercito Cosa ci fai? Pronta a combattere anche io? Fere, tu non puoi combattere A parte che sei pure nana rispetto a loro Non sono nana, è che sono troppo grandi Però sono pronta Perché voglio partecipare anche io a questa battaglia Non puoi partecipare, Fere Perché no? Guarda che belli i miei cloni Tu sei la stratega dei tuoi cloni Perché questi cloni Ma io voglio anche combattere Non sono molto intelligenti Voglio fare come Queen Re Tipo nel Medioevo Che erano talmente coraggiosi Da fare la strategia Ma da buttarsi anche al campo di battaglia Altrimenti che Regina sarei, Steph Se me ne rimango con le mani in mano, no? Vabbè Se vorrai combattere, puoi combatti Però, per adesso Il nostro obiettivo È quello di equipaggiare tutti i cloni Perché abbiamo delle chest Con dei pezzi di equipaggiamento Abbiamo armature in ferro E armature in pelle Abbiamo degli archi Degli scudi E delle spade Esatto E noi dovremo decidere A chi dare cosa Non ci basterà Diciamo Tutto l'equipaggiamento Che abbiamo in quelle chest Per equipaggiare Tutti i nostri cloni Quindi dovremo pensare Attentamente A chi dare cosa In modo da sfruttare La strategia Per vincere Perché tutti i cloni Che vedete Hanno lo stesso identico danno A parte ovviamente I due boss Che sono super mega forti Sono fortissimi Quelli danno uno schiaffo E buttano giù tutto E se notate Io ho già iniziato A equipaggiare qualcosina Se vedete In una delle mie linee E non dirò quale Perché Ferre Non lo deve sapere Mi stai guardando Aspetta Dove sei? Stavo guardando Ferre the Queen Dannazione E io ti stavo seguendo Pensavo dovessi spiegare Qualcosa Di importante Oh non dirò quale Dello dietro di te E neanche te Te lo sei dimenticata? Giusto? Sì Sì Vabbè Tanto allora Anch'io ho iniziato A dare qualche arco E comunque ho fatto Una strategia diversa Dalla tua Quindi non te la posso copiare Perché ormai continuo Con quella che ho già pensato Comunque sto dicendo Come potete vedere Loro hanno l'arco Perché li ho equipaggiati Basta semplicemente Andare in uno dei nostri cloni Che non è ancora stato equipaggiato Facciamo tasto destro Andiamo sul suo inventario E quindi possiamo dare L'arco E le frecce Per combattere In questo modo Questo mio clone Sarà automaticamente Diventato un arciere Pronto a combattere Ok gli archi E le frecce Le ho finite Quindi adesso passo A un pochettino di armatura Ma sei stato velocissimo Lo so Ferre Lo sai che sono molto veloce Sono tantissimi Da equipaggiare Sono davvero infiniti Pensa quando devi mettere Tutta l'armatura E lo so Non finirò mai Ci metterò due ore Solo equipaggiarli Allora però io voglio fare Una cosa diversa Da quella che farà Ferre Sotto il punto di vista Della tattica Sperando che non mi guardi Di nuovo Ma lì non l'ho fatta apposta Stef Sei tu che non ti sei accorto Scusami eh Allora questa è una strategia Pericolosa Forse qui Mi ci gioco La vittoria Ok Però potrebbe funzionare Te lo dico Sì dai Dimmelo Tanto tu non lo fai Esatto Metto l'equipaggiamento Di ferro sugli arcieri Perché Non lo so Ho pensato Che dato che La front line Avrà lo scuro e la spada Magari riescono a reggere A priori le botte E quindi far durare Di più gli arcieri Potrebbe essermi utile Per tenere a distanza L'esercito nemico E magari vincere No non sono d'accordo Ti dico la verità Lo so Secondo me la front line Deve reggere più botte possibili Ti dico la verità Quindi non sono molto d'accordo Ci sta ci sta ci sta Lo so Guardate che bello Il Stefanotto Con scudo e spada Eh Questi stanno diventati Già figli Beh la mia armata Sta iniziando a prendere forma Ferre Non so come è messa la tua Ma fra un po' io attacco Ma no dai Devi aspettarmi Ci vuole una vita Qua ad armarli tutti C'è sono tanti È parte della nostra abilità Ferre Metterci poco Quindi Io prendo e attacco Guarda che I miei sono quasi pronti Ah se ci provi Ti uccido nella vita reale Guarda non ci provare Non ci provare Potrò dire che l'esercito di Stef È più forte di quello di Ferre Quindi pazienza No perché non è giusto Non essere preparati Stef Quindi smettila Beh è come quando tu attacchi All'alba Nel medioevo Zitto È presente che attaccavano All'alba di nascosto Mentre la gente dormiva Per fare l'assalto all'improvviso Quella è la tattica Da infame alla Stef Vedrai Stef Vedrai E scusa Mi vuoi limitare nelle mie tattiche Di guerra Ferre Funzioni così adesso No bisogna essere entrambi pronti E poi lì si vedrà la vera tecnica No quella è solo la forza brutta Comunque Voglio far vedere un pochettino Come sta iniziando a risultare La mia armata Guardateli qua con lo scuro E con la spada E lì in mezzo Quelli con l'armatura in ferro E il loro bellissimo arco Anzi sapete cosa facciamo? Per iniziare a far paura a Ferre Noi equipaggiamo già il boss Perché il boss ha il suo equipaggiamento speciale Eh sì Lo so che cosa avrà Quindi per farle paura Dalla distanza Iniziamo ad equipaggiare lui Guardate quanto fa paura così Pronti? Questo è Stefanotto del boss armato Non lo voglio vedere Girati e guardalo No non mi giro Girati e guardalo No non lo voglio vedere Abbi il coraggio su Voglio vedere il mio equipaggiato Non il tuo Non si gira eh Non si gira Sto continuando ad equipaggiare i miei Visto che mi vuoi solo distrarre Per farmi mettere ancora più tempo Vergognati Vado 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 Siamo pronti mia cara Guardate il mio esercito Scudo Spada Armatura in pelle Cattiveria nei loro occhi Guarda Non guardano nemmeno Ferre Perché non c'è bisogno Sanno già Che vinceranno Se lo dici tu Stef Se lo dici tu Qui dietro abbiamo gli arcieri Equipaggiati completamente in ferro E abbiamo due linee complete Schierate in questo modo La seconda e la quarta linea Invece sono completamente nudi A pugni Non so bene cosa faranno Saranno diciamo numeri Faranno diciamo Prendono le botte A posto di quelli importanti Giustamente Mettiamola così E poi ovviamente il boss Che ucciderà tutti Lui è fortissimo Tutto in diamante Ha addirittura Fede delle abilità Non so se tu lo sai Ok Ha un knockback di 5 Quindi sbalza tantissimo Bello bello Fa danno da più lontano Fa molto più danno da mischia E ha tantissima vita Giustamente Quindi è un boss In tutti i sensi Invece guardiamo la schiera Di Ferreniki La mia è abbastanza classica Ho messo quelli più resistenti Con l'armatura in ferro In prima linea Ovviamente per assorbire le botte Mentre invece Quelli di dietro Ok Della seconda e della terza Picchieranno coi pugni E gli arcieri Li copriranno Con le loro frecce Quindi il tuo obiettivo È far durare gli arcieri All'infinito Perché stanno più dietro Giusto? Sì e nel frattempo picchiano Poi ovviamente il boss Con la corona Vincerà sul tuo Quindi per quello Non c'è problema Perché è più bello Quindi per forza vince Non ne sono molto sicuro Fere Sei pronto Steph? Non ne sono molto sicuro Sì mi sa che possiamo iniziare Sì decisamente Ho un po' di ansia Allora sai come funziona? Eh no Non so come far iniziare la battaglia E infatti te lo voglio spiegare Perché questa cosa è divertente Metto Quelli di fere Aggressivi E infatti hanno la scritta rossa Mentre i miei sono neutrali Buoni e carini Sì ma come si possono scontrare Adesso Steph? È molto semplice Ok Mettendo qualcosa Che i tuoi che sono aggressivi Vogliono picchiare Ah così poi di conseguenza Vanno a picchiare i tuoi Esattamente Ok perfetto Sei pronta? Sì Aspetta che mi metto ben in alto Voglio la visuale Per godermi la battaglia Ok ci sono Ok Allora ne devo mettere diversi In modo tale Che poi loro partano un po' tutti Perché altrimenti Ne verranno chiamati in causa pochi Guardale come iniziano ad andare Ok guardale E non perdono tempo Guarda sono partiti anche i tuoi Guarda guarda Inizia qui la battaglia Steph Vieni vieni Sta iniziando la rissa Sta iniziando la rissa Guarda si uniscono anche gli altri Oh mamma mia Dovevo far partire anche Fere dei Queen Eccola che parte Eccola che parte 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 La battaglia è partita Allora c'è una battaglia Qui alla destra Poi un altro po' qui al centro Ci stanno tutti un po' spargendo Non mi sembrano molto svegli Come cloni No no furbi non sono No no furbi non sono Eh non mi sembrano Ok vedo Guarda guarda i miei I tuoi stanno vincendo alla grande Al momento Pestano con i pugni tuoi E li stendono Stanno picchiando anche il mio boss Guarda lì No 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 Sono troppo forte Stefanotto dei boss Non puoi farmi questo Sono troppo forte Non puoi farmi questo Guarda il boss Guarda Tala sta giocando però Sta comunque provando A fronteggiare tutto il mio esercito È morto? No 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 Lo stanno portando via dalla mappa Però guarda Mi sta distruggendo l'esercito Devi contare quello Perché lui giustamente è molto più forte Guarda Guarda come le picchia Ma ci sono solo i tuoi in giro Non è possibile Perché Allora I tuoi mi sa che hanno perso malamente Però ora io voglio la sfida dei boss Fai scontrare i boss Stef Eh Fere il mio si è Si è arenato Lì dietro Dai andate dal boss Accidenti È abbastanza preoccupato No no Secondo me se l'è fatta sotto Quando ha visto tutti quelli morire Ha detto Lui Lui sta benissimo qui secondo me È contento così Va bene così No dai facciamo sfidare i boss Stef Rissa 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 Vai 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 Stefanotto Guarda tutti i colpi che prende Ma non sta dando colpi Sì è scarso Fere Però vedi L'hai vista la sverla che ha dato al tuo Sì sì L'hai vista Vittoria schiacciante Stef Allora devo dire che mi è rimasto il boss integro E tantissimi del mio esercito sono rimasti vivi Davvero davvero tanti 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 Sei soddisfatta? Molto vabbè ma era ovvio che vincessi io Stef Era ovvio Smettila Dov'è il mio? No voglio il mio boss Meno male che non è equipaggiato guarda Meno male Dov'è il mio boss? Dov'è il mio boss? Picchiatela Picchiatela Mio Stefanotto de Boss Anche se siete a pugni Almeno siete giganteschi Mi hai sfidato Stef Mi hai sfidato No Fere Cosa vuoi fare? Mi hai sfidato Boss versus boss Fere crasha tutta così La sai? Non mi interessa Io li vedo un po' lagganti Non li vedo combattere proprio bene Non sta andando benissimo È un po' un disastro Però ho vinto Abbiamo un po' esagerato Non lo so Stef Forse è stata la tua strategia Che non ti ha pagato bene Vestire Forse così deboli Quelli che dovevano fare la prima linea Non ti ha Non ti ha giovato insomma Non lo so se è stato solo quello Non so Perché noi avevamo anche gli arcedi messi in file diverse E i miei arcedi anche se equipaggiati meglio Sono durati pochissimo Però c'è da dire che i miei invece sono durati tanto Quindi lasciarli proprio nell'ultima fila Come ultima fila Esatto A sparare tranquilli Mentre venivano protetti da tutto il combattimento È stato molto intelligente Esatto Io sto sperando di buttare giù Fere e The Queen No Però i miei Stefanotto Non ce la fanno La Queen non cadrà mai Ragazzi Lasciateci un bel like E questa è la prima volta che tutto il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao